Ragazzi, allora, buonasera da tutti, la Lazio ha perso anche questa partita 2-1 contro Sassuolo, stavolta è stata rimontata lei Avevo pronosticato in live un pareggio della Lazio, quindi comunque avevo pensato che la Lazio non avrebbe vinto Adesso, adesso, la Juventus gioca contro l'Atalanta Allora, qualora noi dovessimo vincere, noi andremo a più 10 sulla Lazio Allora, io capisco tutto, è l'Atalanta, va bene, è una squadra più in forma in questo momento Insieme probabilmente proprio a Sassuolo, che affronteremo tra l'altro mercoledì penso, martedì o mercoledì adesso non mi ricordo Quindi è una squadra anche quella molto tosta da temere, da rispettare e da non sottovalutare Però, insomma, se noi vogliamo chiudere il discorso il prima possibile per poi concentrarci ad altre competizioni Dato che quest'anno lo possiamo fare, dato che si giocano competizioni alla volta Qualora avessimo avuto e fossimo soprattutto in condizioni normali Ovviamente avrei preferito la concentrazione solo su una competizione, sapete qual è Però se, soprattutto, la concentrazione, soprattutto su una competizione Non che, insomma, bisognava mandare a fanculo tutto Però sapete benissimo che il primo obiettivo nostro deve essere la Champions League, punto Però a parte questo Allora, la Lazio La Lazio è una squadra che dà l'impressione di essere stanca Oggi forse anche meno rispetto al solito Ed è infatti un po' così che ha perso in rimonta oggi Perché comunque, secondo me, delle tre partite in questa settimana È la partita nella quale probabilmente ha dimostrato meno di essere stanca Il Sassuolo era sulle gambe e ha trovato il gol del vantaggio Quando doveva trovarlo o cercarlo la Lazio E il Sassuolo sembrava sulle gambe Bougat, Bougat è il 60% di questa squadra, penso Quando è uscito il problema di Bougat è che deve maturare un po' Nel senso che sai che sei stanco Cerca di evitare delle giocate allucinanti Che ti rischiano di stirare un po' i muscoli Io penso sia uscito per precauzione Proprio perché avrà la Juventus dopo Quindi non penso salterà la Juventus Bougat Però Bougat sicuramente io lo vedrei molto bene Come post Costa È un giocatore che innanzitutto è integro È più giovane, ha gamba E ha, non dico le stesse caratteristiche e qualità di Costa Perché Costa comunque Per il momento è sicuramente molto superiore rispetto a Bougat Però è, e potrebbe essere sulla stessa strada Diciamo, ecco Ehm Di, di, come si chiama Allora il ragazzino intanto del Sassuolo Che mi sfugge il nome sia suo Sia del centrocampista Di, di O Oh signore Vabbè Vabbè La vecchiaia ragazzi Vabbè comunque Il ragazzino del 2000 Ha fatto una grande partita Ovviamente bisogna anche vedere E considerare che comunque un conto è giocare Senza pubblico Un conto è giocare davanti a 60.000 persone Ok Per un ragazzino così giovane Ovviamente io mi cagherei addosso Anche giocando a porte chiuse In un Lazio Sassuolo Quindi non è Sicuramente ha personalità Questo poco da dire E da discutere sicuramente comunque Ha fatto una grande partita Da 7 e mezzo Oltre al gol Al gol annullato Poi il gol della Lazio Non sono tornati indietro Vedere se c'era un fallo E quant'altro Poi però comunque da quello che ho visto Hanno Comunque l'arbitro Ha tenuto la stessa linea Dato che anche sul gol del Sassuolo C'era un piccolo contatto Il gol del pareggio Quindi hanno tenuto Quanto meno la stessa linea Ehm Il Sassuolo palleggia bene Il problema è che quando hai poca qualità E manca l'intensità Infatti negli ultimi 20 minuti Quarto d'ora E l'ultimo quarto d'ora Il Sassuolo è calato in intensità Come è giusto che sia Insomma E non avendo la qualità Che ti sostituisce questa cosa Pesa molto Pesa molto Perché hanno iniziato a fare Degli errori stupidi Ferrari stava per mandare in porta Adesso non mi ricordo Come cazzo si chiama Insomma oggi Non mi ricordo Oggi è una giornata Di non ricordi Vabbè comunque Ehm Penso che sia stata Ehm Che il Sassuolo Palleggi bene Solo che In certe situazioni Secondo me Gestisce molto male La partita Perché o ha il pallone Mi sembra un po' come Quando era il Napoli di Sarri No O aveva il pallone O quando non l'aveva Faticava parecchio Io sono contento Che stiano uscendo Delle squadre Come l'Atalanta Come il Sassuolo Come queste squadre qui Che cercano di fare Un gioco propositivo Io spero che Escano sempre di più squadre In Serie A Con questa filosofia Se si vuole cambiare Il campionato Perché molte volte La Juventus Secondo me È molto incastrata A livello europeo Anche perché qui In Italia Di fatto si gioca Con calcio totalmente diverso Speculativo E attendista Mentre in Europa Si gioca molto In maniera molto propositiva Quello che fanno Di fatto Sassuolo e Atalanta Faccio due nomi Ovviamente poi La Juventus Però sicuramente L'Inter e la Lazio Non fanno questo gioco Propositivo Simone Inzaghi Io non lo vorrei mai Alla Juventus Ma mai 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 Una roba Allucinante Quello ha Il centro campo Un centro campo Che potrebbe Tranquillamente Palleggiare Perché Trasciando oggi Che poi Esce Savic Entra Leiva E va bene Però in generale Avrebbe Luiz Alberto Leiva e Savic Sono tre giocatori Che possono palleggiare Savic forse Secondo me Un po' meno Perché è molto fisico Ed è un giocatore Che Comunque Al quale gli piace Tenere molto il pallone Però sicuramente Il tocco Di prima Ce l'ha Non è che Non gli manca Che gli manca Insomma Solo che Invece Preferisce Aspettare Ripartire Io queste cose Non le accetto Cioè Anche Allegri Il primo anno Con la Juventus Aveva un centrocampo Un signor centrocampo Ma non si può Cioè io sento Molte volte dire Sì ma Allegri Il primo anno Con quel centrocampo Faceva un calcio Spettacolare Non è vero Cioè Anche In quell'anno A parte Qualche volta Comunque Allegri Preferiva Aspettare Attendere L'avversario Attendere Le mosse Dell'avversario E poi Adeguarsi In conseguenza E anche E poi Ripartire Anche lì Quindi Non è vero Che Allegri Imponeva Questo gran calcio Quando aveva Quei centrocampo Quindi Anche questa È un'agenda Metropolitana Da smontare Sono modi Di vedere Il calcio Diversi Per me Quelli sono vincenti Possono essere vincenti In questo momento In Italia Molto meno In Europa E Immobile Io ripeto Per me È un giocatore Sopravalutato Ha fatto tanti gol Anche perché Ha battuto Tanti rigori Poi Gioca da solo Cioè Gioca sempre Tutte le partite Tutti i minuti Con la squadra Che è a seconda In classifica E quindi È normale Sia così Secondo me Poi Per quanto riguarda Il resto Boga Boga Comunque È tanta roba Boga Caputo La mossa Secondo me Intelligente Di De Zerbi È stata quella Ha messo Caputo Ha dato profondità A Sassuolo E quindi Ha dato un'altra Alternativa Al gioco Del Sassuolo Non solo Cioè Comunque Il Sassuolo È una squadra Che verticalizza molto Ma Molte volte Sono Ad esempio I centrocampisti O gli esterni A inserirsi E gli attaccanti Poco Cioè Nel senso che Il ragazzino Il 2000 Si muoveva molto Al limite Della rigore Però si buttava Dentro Poche volte Il gol Suo Ad esempio È arrivato Perché si sono buttati Dentro Tutti e due Però Per prima Si è buttato Dentro Caputo Che ha ricevuto Il pallone E l'ha passata Lui Quindi Caputo Io penso che Caputo Insieme al ragazzino Sia il migliore in campo E si meritino Tutti e due Un bel set E mezzo Questo È il quanto Piccola Prentesi Primo tempo 1-0 Per la Lazio Mancano 20 secondi A fine della partita Del primo tempo Continuano a passarla Ecco Il difetto Più grande Delle squadre Che giocano Palla a terra E giocano Solo in quel modo È che Quando sta per Scadere il tempo Non lanciano su E non la buttano In mezzo All'area di rigore Anche se stanno perdendo E quindi Perdono tempo Passarla lì E poi finisce il tempo L'unico difetto Di queste squadre È quello Bisognerebbe Avere più Frecce Al proprio arco Quella È la principale Però Non essere ossessivi Dall'altra parte Solo Su quel gioco lì Come Altri allenatori Come Simone Inzaghi O come Allegri O come altri Sono troppo ossessivi Sulla fase difensiva Bisogna cercare Sempre di avere Una via di mezzo Secondo me Klopp Ad esempio Siccome tiriamo fuori Sempre Klopp Klopp È un allenatore Che pressa molto alto Che fa un gioco Molto verticale Che non disdegna Neanche però Di far tenere Per certi tratti La partita Il pallone Agli avversari È un attore Che ha Fatto imparare Al Liverpool Un Un Diciamo L'adeguarsi No E L'adattarsi Alla partita Perché dentro La partita Come diceva Allegri Ci sono più partite E Klopp Anche se è una squadra Anche se è una squadra Una delle squadre Più in forma Però È sempre L'Atalanta Cioè gioca Anche l'Atalanta Ogni 4 giorni E penso Che è vero Che noi non abbiamo Questa rosa lunghissima Ma penso che l'Atalanta A parte Muriel Faccio un esempio O Ilicic Che comunque a me Ilicic non è che Faccia impazzire Però Muriel Soprattutto Per il resto Penso che la Juventus Abbia è una rosa Una panchina Leggermente più lunga Dell'Atalanta Quindi cerchiamo Di portarla A casa Nel primo Nel secondo tempo Ricordiamoci che Conterranno molto Gli ultimi 20 minuti Come è successo Con il Milan Di fatto L'ultima mezz'ora Praticamente Si è decisa la partita E Qualora dovessimo Andare in vantaggio Non Mollare Un cazzo Buona giornata a tutti Buona serata a tutti Ci vediamo dopo E sempre comunque Fino alla fine Forza di Ventus